Vallefoglia, paesaggio con figure. Un libro che racconta la storia di questo comune, di questa città che se a livello legale è un comune giovanissimo, ovvero nato da sette anni dalla fusione di altri comuni da quel 2014, è rappresentata però in questo libro tutta la sua storia passata attraverso narrazioni, attraverso fotografie che vogliono raccontare il passato, il presente ma soprattutto il futuro di un territorio che ad oggi è sempre più in continua espansione. L'idea, devo dire la verità, è stata del sindaco che già quasi in tempi pre-covid mi chiese ma perché non provi a pensare a un libro che racconti la storia di Vallefoglia attraverso le vite di sette personaggi illustri. Io ho raccolto la sfida, ho provato a comporre, mi sono già occupata in passato di questo territorio, ho provato a comporre delle notizie già edite per creare quello che invece fosse un ritratto differente di Vallefoglia. È come se avessimo preso il capitolo personaggi illustri di una guida turistica, una guida al territorio diciamo così e avessimo capovolto la prospettiva, cioè cercando di vedere questo territorio, gli ex comuni di Sant'Angelo in Lizzo e col bordolo con tutti i relativi castelli, borghi che compongono appunto Vallefoglia, attraverso gli occhi di queste persone che qui sono nate o che qui hanno vissuto. Non tutti sono nati a Vallefoglia, l'unico che è nato a Vallefoglia cioè Sant'Angelo in Lizzo è Giovanni Branca di questi sette personaggi, architetto vissuto nella seconda metà del Cinquecento, tra fine Cinquecento e primi Seicento e architetto della Santa Casa di Loreto che è ricordato per esempio per i suoi studi sulla macchina a vapore. Poi vabbè passando così in un'arpidissima carrellata perché sono sette, sono tanti e hanno avuto delle vite veramente molto ricche. Sempre per Sant'Angelo in Lizzo abbiamo Giulio Perticari, sua moglie Costanza Monti Perticari, poi abbiamo Terenzo Mamiani, statista, uomo del Risorgimento come sicuramente tutti ci ricordiamo. Poi invece per quello che riguarda col bordolo abbiamo Giovanni Santi, passato alla storia come il padre di Raffaello Sanzio ma che ha una sua personalità, aveva anche una sua attività molto interessante che fortunatamente in tempi recenti è riscoperta, la cui famiglia era originaria di col bordolo ma poi si è trasferita in Urbino dopo un assedio del 1446 di col bordolo e poi Francesco Paciotti e Girola Mogenga. La sorpresa più grande è stata probabilmente Francesco Paciotti, architetto militare e ingegnere che ha viaggiato mezza Europa veramente, del quale quest'anno ricorrono proprio 500 anni dalla nascita. L'identità di una città futura, una città industriale, una città che è al centro e diciamo confina con Pesaro, con Montalabate, con Petriano, con Montecalvo, con Tavuglia ed è crocevia di quattro regioni, una città industriale importante che attraverso le sue radici storiche, attraverso le strategie future che abbiamo individuato col nuovo piano regolatore vuol diventare anche un punto di riferimento importante al centro di queste quattro regioni per l'economia, ma la storia, l'ambiente, il paesaggio, il turismo e punta ovviamente, come dice la nostra bellissima Costituzione, alla piena occupazione.